E' fuggito in Sicilia il 32enne Giuseppe Sanfilippo di origine mazzarinese, autore di un tentato omicidio e danni di un 27enne albanese raggiunto da dei colpi d'arma da fuoco lo scorso 28 giugno nel parco di Mugio in provincia di Monza. Dopo serrate indagini dei carabinieri della compagnia di Desio, il 32enne è stato tratto in arresto dei militari del reparto territoriale di Gele in attuazione a un decreto emesso dalla procura della Repubblica del Tribunale di Monza. Un fatto di sangue risolto in 48 ore dai carabinieri grazie all'analisi dei dati di traffico dei telefonini cellulari del ferito, della disamina, dei filmati, dei sistemi di videosorveglianza e dall'esame di un'agenda ritrovata nell'abitazione del 27enne albanese sulla quale erano riportate annotazioni riconducibili all'attività di spaccio congiuntamente ad alcuni dettagli forniti dalla vittima al risveglio dal coma. Un tentato omicidio riconducibile a quanto sempre a una consegna di un chilogrammo di marijuana. Una volta ottenuta la droga, infatti l'aggressore non ha esitato a esplodere due colpi di pistola all'indirizzo del pusher, uno dei quali lo ha centrato alla schiena facendola casciare a terra per poi darsi alla fuga a bordo dell'auto della vittima ritrovata abbandonata dai carabinieri a Nova Milanese. L'uomo, già destinatario di una condanna per omicidio commesso nel 2001 quando era ancora minorenne, è stato condotto nella casa circondariale di Gela dove dovrà rispondere di tentato omicidio, rapina aggravata, porto illegale di arma da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.